Abbiamo votato una legge molto importante, la 23 del 2019, che tra le altre cose prevede un finanziamento di 400.000 euro a favore delle ATER abruzzesi che gestiscono le residenze popolari. Con questo provvedimento normativo aggiovoleremo le ATER a provvedere agli sfratti di quelle persone che sono alloggiate in appartamenti popolari senza un titolo. Ciò permette di ottenere degli appartamenti libri e quindi darle in dotazione alle tante persone che ne hanno il bisogno e sono in lista d'attesa da tanti anni.